Sono il dottor Alessandro Pisani, primario di chirurgia vertebrale e mi interesso da tantissimi anni di patologie della colonna. I trattamenti effettuati sono molteplici. Nei casi meno gravi, meno importanti, si ricorre alle cure convenzionali, infiltrative locali, mediche e fisiche. La chirurgia viceversa è ben più vasta e impegnativa. Esiste una chirurgia percutanea, condotta spesso in anestesia locale e in regime di day hospital, con la quale noi riusciamo a trattare e rimuovere le ernie discali cervicali o lombosacrali o trattare i cedimenti vertebrali da osteoporosi o i tumori metastatici vertebrali. La chirurgia OPEN viceversa si utilizza in casi particolari di patologie degenerative gravi, tumorali, traumatiche ecc. E grazie all'innovazione tecnologica dei sistemi di navigazione intraoperatoria e dei sistemi di rilevamento di diagnostica per immagini intraoperatorie come la OARM ci garantisce dei risultati veramente brillanti che ci incoraggiano e spingono ad andare avanti su questa strada. Grazie.